Il primo gruppo è un gruppo che viene dalla provincia di Napoli, credo, i Motels, venite sul palco, perché li abbiamo scelti? Perché sono molto originali e sono la fascia pulita della nuova generazione musicale, noi siamo molto contenti di vedere i ragazzi così che si occupano di musica, vengono da Casalnuovo, provincia di Napoli, territorio abbastanza difficile come quello dove vivo io, però nascono dei fiori in giardini inaspettati, sono veramente dei bravi ragazzi in gamba e lavorando sotto potranno diventare dei buoni musicisti. Tu ogni tanto quando noi ascoltiamo questi ragazzi vanno fuori e tu dici è incredibile come questa generazione di musicisti siano tutti bravi ragazzi. Fino adesso il 98% sono tutti bravi ragazzi e l'altro 2% qualche svitato che pensa di risolvere i problemi esistenziali con la musica, come ci capita di vedere nel camper. Però c'è una generazione di bravi ragazzi, vale a dire che quelli che si stanno accostando alla musica è una generazione non di perbenisti, ma di persone che stanno elevando lo spirito e il comunicare ad una forma molto più serena e più pulita. E questa è una cosa che fa piacere a Fiat e pure a noi. Allora, voi perché fate musica? Facciamo musica perché al momento è l'unico modo che abbiamo per esprimere ciò che scriviamo, ciò che sentiamo dentro le nostre canzoni. La musica poi penso che sia la cosa più bella e diretta che possa arrivare alle persone, la cosa più pura, io la definisco così, la nostra musica. E ci fa piacere esprimere determinate cose che noi pensiamo della nostra generazione, della nostra società attraverso le nostre canzoni. Sì, ma riuscite ad avere una possibilità per esprimere un palco o qualcosa? Al momento no, noi siamo venuti qui come hai detto tu prima con la chitarra sulle spalle cercando qualcuno che ci potesse dare la possibilità. L'hai fatto tu e ti ringraziamo davvero di gran cuore per averci dato la possibilità di essere qui. The Motels da Napoli, provincia. E prova, sì. Sà, prova. E. Due di notte già E sul fianco di un letto straniero scrivo poesie E dimentico che forse in questa età si legge solo il titolo Calma parente mi riporta in un metro Parole a caso non capisco ma vorrei Urlare le storie attorno ad un felò Sfidare l'atmosfera e sfiorare la tua pelle un'ora in più Uh, 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 uh Ma dovrei accontentarmi di sogni scontati lì In America Traccia dentro Roxy Bar Ogni notte torno a crederci L'inchiostro scorre Mentre ascolto piovere Lontano forte inventa storie su di me Urlare canzoni stonate dentro a un bar Sfidare l'atmosfera e sfiorare la tua pelle un'ora in più Uh, 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 uh E non canterò un'altra bugia quando scriverò di te Grazie The Motels, io ho criticato loro il nome perché ho detto che Motels è un nome molto comune quindi un consiglio quando scegliete i nomi, scegliete dei nomi un po' Allora io voglio sapere chi è, però siete bravissimi, altrimenti non eravate qui Chi è Nunzia Mazzone? È una nostra fan, una delle nostre supporter Denise De Falco Brividi, Lia Vezza, chi è? Altre supporter, noi abbiamo un piccolo seguito di fan, così li possiamo definire sono ragazzi che ci aiutano a portare avanti la nostra musica che ci seguono ovunque, anche tramite il web, quindi non essendo qui a Sanremo e Fscomanica, vai Alfredo, chi è Alfredo? Alfredo penso sia, all'altro lato No, no, no Ah, dopo Ebbene dopo, sì Ah, ok, ok Allora, i nuovi Pumoderni, no, loro sono i Motels Tutto qui, grazie Motel, i Motel, The Motel Ah, The Motel, il Motel, il Motel Ok, sono il Motel, va bene Grazie, ciao Grazie Ciao i Motel Grazie 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 Grazie